Non si può continuare a proporre agli italiani una sorta di contrapposizione. Votate noi perché vincono i fascisti, non votate la sinistra perché mettono le tasse. Davvero questo significa mancare di intelligenza e di rispetto agli elettori italiani. Lo dico da Emiliano, ho fatto il presidente del consiglio regionale di questa regione, vengo da Sassuolo. Non si può chiedere ai lavoratori di questa terra, agli imprenditori di questa terra, che stanno chiedendo sbloccateci il problema del gas, risolveteci il tema della manifattura energivora e la risposta è votata Bonelli, che è quello per il quale non si fanno i rigassificatori, si racconta che si può avere tutto green, tutto pulito in due mesi e allo stesso tempo mancheranno le forniture e gli stoccaggi. È tempo di parole di verità e con tempo di coraggio.